Buongiorno a tutti, oggi ci sarebbe dovuto essere un consiglio in quattro municipi, di fatto questo consiglio non si è tenuto, non si è potuto tenere perché la maggioranza non ha dato la propria presenza e non ha consentito, anche facendo avvicendare gli unici personaggi presenti, non ha dato il futuro radiale, però purtroppo c'erano da votare delle cose abbastanza importanti, una era un parere di modifica delle linee dell'autobus richiesta dai cittadini, i cittadini peraltro presenti. Le motivazioni per cui non c'è stata questa presenza della maggioranza non è dato sapere. Forse non volevano che si votasse e passasse in una stanza semplicemente votata dalle opposizioni e con poche persone della maggioranza. Nella stanza non la sappiamo, sappiamo che il consiglio è stato rimandato domani, dove di nuovo ci sarà questa votazione, ci sarà un nostro documento di blocco degli strati delle caseate e aspettiamo domani per vedere che cosa succederà. Sì, appunto, noi rimandiamo tutto a domani, vedremo quello che succede, il comportamento della maggioranza anche per le loro proposte, ossia il cambiamento di una linea ATAC che è uscita come parere dalla Commissione, una Commissione che ho fatto un po' no, ma vedremo domani il comportamento appunto di questi consiglieri che si permettono di non verire, di convocare il Consiglio, di non verire, nonostante poi i cittadini siano presenti e si comodano, perciò le sedute sono pubbliche, i cittadini magari prendono anche permessi, fette al lavoro per essere appunto presenti per quanto riguarda il loro territorio, la loro unità quotidiana, qualcuno se ne disinteressa e questo è il risultato, rimandiamo tutto a domani, il numero legale sarà 9, perciò in teoria basterebbero le opposizioni per acquare il Consiglio, vediamo cosa faranno, ma domani saranno sicuramente tutti presenti. Oggi probabilmente avevano qualcosa di più importante da fare, ma visto quello che sta succedendo in Capitolio con Mabia Capitale, forse è questa la meditazione per cui non si presentano in Consiglio, sono completamente spaccati, una maggioranza non è allo sbrando. Diciamo che è una maggioranza allo sbrando, ma anche a questo punto è una maggioranza inefficace, noi iniziamo anche ad essere stanchi perché le loro pagine di partita non ci interessano, perché il territorio ha bisogno di risposte, ha bisogno di rispensione. Grazie per la visione!